La lotta al tumore, come abbiamo appena detto, con tecniche mini-invasive, caldo e freddo, come delle armi contro il cancro. Ascoltiamo Andrea Martino e poi torniamo in studio. Quello che è stata una recidiva successiva a un trattamento... Esiste una tecnica che permette di intervenire attraverso il calore o il freddo su alcuni tipi di tumori, come quelli del fegato, regne e polmoni. Parliamo della termoablazione e della crioablazione, una chirurgia mini-invasiva diventata nel corso degli anni sempre più precisa ed efficace e che può essere utilizzata per diversi scopi. Vanno dalla possibilità di trattare in maniera radicale un tumore in fase localizzata, il trattamento anche di lesioni a distanza, quindi con lo scopo di controllare e cronicizzare la malattia per un lungo lasso di tempo e un terzo ruolo, non meno importante, è quello di trattare lesioni, per esempio, molto dolorose che non hanno risposto a trattamenti precedenti, come per esempio la radioterapia o i trattamenti sistemici, con lo scopo di alleviare una sintomatologia dolorosa. La termoablazione è una metodica che viene utilizzata da circa 20 anni e che prevede l'infissione guidata dalle immagini quando viene effettuata da radiologi interventisti all'interno di organi target. Nell'ablazione a caldo vediamo come l'ago sotto guida ecografica o TAC viene posizionato all'interno del tumore, viene liberato un quantitativo di energia che determinerà proprio l'ablazione termica, quindi quest'area che vedete qui non è altro che l'ablazione della lesione, che quindi verrà bruciata perché raggiungeremo temperature fino a 130 gradi centigradi. Nel caso invece della criablazione, che è una metodica più complessa, dovremo posizionare multiple criosonde che creeranno, vedete la palla di ghiaccio esattamente come nel freezer e questa è la palla di ghiaccio, la TAC, la TAC e la risonanza magnetica ci permettono di evidenziare la formazione dell'iceball, della palla di ghiaccio che andrà a coprire tutta quanta la lesione e poi determinerà la necrosi del tumore. Tutte le lesioni che noi trattiamo vengono preventivamente bioptizzate, quindi sappiamo già che stiamo parlando di un tumore e non di una lesione bilinia che altrimenti non andrebbe trattata. Buongiorno dottore. Mario, come stai? Bene, grazie. Per combattere i tumori è indispensabile un approccio multidisciplinare. Proprio perché il paziente in questo modo può avere una valutazione contemporanea di più specialisti e la decisione non viene presa in funzione di chi vede il paziente per la prima volta, ma viene presa in maniera integrata e questo certamente, e c'è letteratura in merito, determina un vantaggio in termini di sopravvivenza e qualità della vita per il paziente. Proprio quanto accaduto a Mario, colpito nel 2006 da un tumore al rene e poi una recidiva qualche anno più tardi al pancreas trattata con la crioablazione. È passato dopo al fegato e il fegato invece tramite termoablazione abbiamo cercato di necrocizzare queste lesioni che attualmente non ci sono più. Rimango sempre sotto controllo per vedere l'evoluzione della malattia. Si tratta di tecniche che possono essere utilizzate in sinergia con altri trattamenti come chemio e radioterapia e che proprio perché mini invasive permettono tempi di recupero rapidi. Il postoperatorio è fantastico, praticamente sono rimasto in stanza per una giornata dopodiché sono stato dimesso, l'intervento era andato bene, insomma. Restiamo quindi così, sotto controllo, quello è importante, il controllo sempre. Benissimo, professore noi parliamo di dieta ma anche contro il tumore può essere utile una dieta? Sì, sicuramente contro il tumore può essere utile sia dal punto di vista preventivo che dal punto di vista terapeutico. Noi da tanti anni lavoriamo proprio su questo. Ad esempio si sa che le proteine possono spingere questi fattori di crescita che sono al centro di tanti tumori, particolarmente l'IGF1. Dall'altro lato lo zucchero e la glicemia sono al centro della nutrizione del cancro, il famoso Warburg effect, cioè il tumore si nutre di alti livelli di zuccheri e quindi modulando, modificando sia zuccheri che aminoacidi contenuti nelle proteine può essere, il tumore può essere messo in difficoltà sia dal punto di vista preventivo ma anche adesso dal punto di vista terapeutico. Abbiamo una serie di studi clinici, alcuni già completati, altri da completare che vanno proprio a usare terapie standard insieme a digiuni e diete minima digiuno. Ecco, poi parleremo della mimo digiuno, ma le proteine però sono essenziali per tutto il metabolismo dell'essere umano, dunque non è poi dannoso togliere le proteine per le altre cellule, d'accordo, che combattiamo quelle cancerose? Sì, come in tutto la risposta sta nelle dosi giuste. Quindi le proteine, adesso nel mio nuovo libro parlo di bambini che ne mangiano due o tre volte al giorno, più di quello che è raccomandato da tutte le società pediatriche e quindi bisogna tornare al livello normale che è circa 0.8 per una persona adulta grammi per chilogrammo di peso corporeo al giorno, quindi una persona che pesa 60 kg circa 45-50 grammi di proteine al giorno, che potrebbe essere un etto e mezzo di pollo o di pesce. E basta, e basta? E basta, quindi ad esempio nei bambini cosa vediamo? Che il bambino va a scuola, mangia la carne, va a casa, rimangia la carne e questo poi lo porta a queste due o tre volte dosi, due o tre volte superiori al normale. Quindi questo è il livello giusto. Quando si sale, lo vediamo anche dagli studi epidemiologici, inizia a salire il rischio e l'abbiamo pubblicato anni fa, il rischio di sviluppare tumori. Addirittura nel gruppo studiato dal governo americano si parlava di 3-4 volte aumento del rischio di sviluppare tumori nella popolazione che aveva il più alto apporto di proteine al giorno. Addirittura. Però la cosa strana, che noi abbiamo parlato poco tempo fa di obesità infantile in particolar modo, è che l'Italia è in Europa uno dei paesi con l'obesità infantile più alta. Allora ci domandiamo, la dieta mediterranea, che è sempre stato detto che è la dieta per eccellenza, eccetera, non funziona. La dieta mediterranea funzionerebbe se fosse fatta correttamente. Quello che succede invece è che il bambino italiano mangia circa mezzo chilo di cibi con alto contenuto di amido e questi cibi, pasta, pane, pizza, patate, io le chiamo le 4P, questi cibi diventano zucchero alla stessa velocità dello zucchero da cucina. E quindi abbiamo sempre demonizzato, sentiamo sempre parlare, il bambino deve mangiare meno zucchero, però non sentiamo mai parlare della riduzione dell'amido, quindi di questi ingredienti. È ovvio che non va demonizzato il carboidrato, sappiamo che alti livelli di carboidrati vanno benissimo, quindi non dobbiamo andare dall'esagerazione di queste 4P a eliminarli come sta succedendo in vari paesi del mondo, perché queste diete low carb sono le peggiori che esistono. Ecco, ma allora come bisognerebbe mangiare? Un esempio di dieta, qual è? Dieta nel senso, insomma, di dieta corretta. L'esempio è la vecchia dieta mediterranea, quella che avevamo un po' in tutta Italia, quindi una volta si mangiava un po' di pasta, anche la pasta costava, quindi 50-60 grammi di pasta, 300 grammi di fagioli, 150 grammi di verdure, cosa si faceva? Si coltivava nel paese o dove era, e questo lo vediamo quando parliamo con i centenari di tutta Italia, si coltivava quello che c'era e si continuavano ad usare questi ingredienti che erano abbondanti, cercando di dosare al massimo il resto, inclusa la pasta, e poi ogni tanto, e metti una volta a settimana o due, c'era la carne, magari carne di maiale o altri animali che venivano sacrificati. E certo, e quindi adesso mangiamo troppo, sostanzialmente? Adesso mangiamo sempre e troppo, quindi mangiamo per, almeno negli Stati Uniti, in Italia penso sia simile, 15 ore al giorno, invece delle 12 ore, quindi bisognerebbe mangiare tra le 8 del mattino e le 8 di sera, e mangiamo troppe volte, quindi 5-6 volte al giorno, ci siamo abituati anche con questa idea, che spesso si sente anche dal nutrizionista, no? Mangia 5-6 volte al giorno. Insomma, bisognerebbe tornare invece a quello che si faceva prima, mangiare 3 volte al giorno e mangiare entro le 12 ore. Entro le 12 ore, quindi dalle 8 del mattino alle 8 di sera, diciamo, e non andare oltre. Sì, 8-9-9, quindi una cosa che spesso mi viene chiesta è, ma io non riesco, mi sveglio alle 7, cosa devo fare? Sveglio alle 7, mangio alle 9 la colazione, poi puoi far cena fino alle 9 di sera, sono cose che, insomma, sono relativamente semplici. Certo, certo. Senta, parliamo della mima digiuno, perché questa è una cosa che incuriosisce molto, ma che vuol dire mima digiuno? Se ne è parlato tanto, no? Lei è uno degli ideatori di questa dieta. Sì, la mima digiuno è stata in effetti la risposta a uno studio fondato o sponsorizzato dal governo americano, quando siamo andati in clinica a fare degli studi sui pazienti col cancro, e ci siamo accorti che i pazienti non volevano fare digiuno d'acqua e gli oncologi non volevano dargli il digiuno d'acqua. Quindi abbiamo sviluppato... Digiuno d'acqua significa... Solo acqua. Solo acqua. Sì, quindi il primo studio clinico era 4 giorni solo ad acqua, insieme alla chemioterapia. E da lì abbiamo sviluppato questa composizione di ingredienti, un po' usando quello che noi chiamiamo nutritecnologia, cioè quindi l'abilità, ad esempio, delle proteine di regolare certi geni, e dello zucchero di regolare altri geni. E quindi, usando questa conoscenza, abbiamo sviluppato una dieta di 1100 calorie il primo giorno, e poi scende a 800 calorie, che ha lo stesso effetto del digiuno d'acqua, almeno lo stesso effetto su vari marcatori nel sangue. Poi è ovvio che ci sono delle differenze. Però in generale, per quanto riguarda soprattutto il cancro, o comunque i grossi cambiamenti dell'organismo durante il digiuno d'acqua, questi cambiamenti vengono mantenuti con la dieta mima digiuno. Allora, ultima domanda, perché siamo in chiusura. Ma questa dieta mima digiuno, però, lo possono fare tutti, nel senso, non è che bisogna essere malati, anzi, cioè bisognerebbe farla due volte l'anno, se ricordo bene, sono cinque giorni. Sì, adesso ci sono tanti, diversi tipi di mima digiuno che stiamo sviluppando per varie malattie. Però c'è quella per le persone normali, che è quella che ho appena descritto, e quindi la possono fare, la stanno facendo tantissime persone, penso che siano oltre 150.000 persone che l'hanno fatta, seguiti da migliaia di medici, nutrizionisti, eccetera, e dietisti. E quindi, se questa dimedia tre volte all'anno, è ovvio che una persona che è sovrappeso, ha colesterolo alto, pressione sistolica alta, eccetera, può farla anche più volte. E in genere è sempre consigliato parlare col medico o nutrizionista prima di iniziare questi cicli. Certo, chi è interessato, poi insomma lei ha scritto tanti libri su questo, quindi può anche documentarsi.